Nel Santo Evangelo di Matteo, il Battista dichiara «Colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali». E San Paolo afferma «Questo, dunque, è il mio vanto in Gesù Cristo. Il mio vanto nelle cose che riguardano Dio. Non oserei, infatti, dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio». Giovanni Battista e San Paolo proclamano in questo modo la precedenza di Gesù. Il venire prima di loro, della persona di Gesù. Io non sono degno del Battista. Il mio vanto sia solo in Cristo Gesù di San Paolo. Da dove provengono? Noi non siamo normalmente abituati a questo rinvio ad uno che viene prima. Provengono appunto dal riconoscimento che Gesù li precede. Precede diversamente il Battista che temporalmente è venuto prima da Paolo che temporalmente è venuto dopo. Ma obiettivamente Gesù è colui che precede. E questa diventa la condizione per annunciare il regno. Vale a dire, in ultima analisi, la persona stessa di Gesù e annunciarlo a tutte le genti. Giovanni anticipa nella sua persona e nella sua opera la persona e l'opera di Gesù. Il Vangelo ce lo testimonia assai bene. Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino, è detto del Battista, ma con le stesse parole è anche Gesù che richiama i suoi contemporanei. Entrambi, Giovanni e Gesù, fedeli fino in fondo al proprio compito, entrano in conflitto con il potere dominante sia religioso che politico. E le parole con cui il Battista apostrofa, senza buonismo, farisei e sadducei, sono le stesse che Gesù userà razza di vipere. Per queste parole e per questi atteggiamenti vengono messi a morte. Possiamo allora riconoscere che accogliere Giovanni, che la liturgia questa sera ci propone come modello dell'attesa, e imitare San Paolo nel suo vanto solo in Gesù Cristo, significa accogliere coloro che portano Gesù fino a noi oggi. Il Precursore e Paolo sono testimoni, come dice il Santo Evangelo riprendendo il profeta, sono voce di un altro, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Riflettiamo un istante su questa relazione di Giovanni e di Paolo a Gesù. Cosa ci dice? Ci dice che la figura del testimone, cioè la figura del cristiano che noi siamo, non risulta comprensibile al di fuori del rapporto con colui che lo rende tale. Se non siamo riferiti all'altro che è Gesù, noi documentiamo solo noi stessi la nostra bravura o i nostri limiti, e tutto finisce lì. Nessun altro uomo si muove solo per la bravura di un uomo, per l'onestà di un altro uomo, per la dedizione di un altro uomo, perché ogni uomo è solo un uomo. Nell'esperienza cristiana si impara che nella precedenza dell'altro con la maiuscola si fonda la testimonianza feconda, la testimonianza di vera apertura, che rende possibile alla libertà del testimone e di chi lo accoglie il miracolo del cambiamento e della conversione. Si capisce il sacrificio del Battista solo alla luce di quello di Gesù, altrimenti la modalità della sua messa a morte così oscena ci scandalizzerebbe ancora oggi il capriccio di una donna. La figura di Giovanni, ha detto Papa Francesco, fa pensare a me tanto la Chiesa. La Chiesa, infatti, aggiunge il Papa, esiste per essere voce del suo sposo. In effetti tutto il compito della Chiesa, cioè della comunione di noi cristiani, alla fine si riconduce nel lasciar brillare sul nostro volto Cristo, luce delle genti. Ecco il principio, il criterio della conversione personale. Ecco la strada perché la comunione oggettiva, l'amore fraterno che nasce tra di noi in forza della Trinità rivelataci da Gesù diventi fecondo. Ecco la modalità con cui, nelle debite e distinzioni, noi cristiani, in quanto cittadini, possiamo costruire un'amicizia civica. però tra la figura e l'opera del Battista e quella di Gesù c'è anche una forte discontinuità che giustifica la precedenza di Gesù. Gesù introduce, infatti, una radicale novità ed è il Battista stesso a svelarcela nel Santo Evangelo di oggi. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il Battesimo che Giovanni conferisce è un Battesimo di preparazione. Certo, è un invito forte al cambiamento, ma quello di Gesù è il Battesimo definitivo. In esso, come nel fuoco di un crogiolo, l'uomo viene interiormente trasformato dallo Spirito Santo. come è possibile che non restino solo parole queste che magari da anni ci sentiamo ripetere nel ricorso del tempo liturgico? Come si documenta nella vita nostra di oggi di uomini postmoderni, assai sofisticati, capaci di tante analisi, esposti a tante possibilità di scelte tra loro contraddittorie, come è possibile dire che siamo trasformati dallo Spirito Santo senza che questa sia un'affermazione astratta, cioè separata dalla nostra persona e dalla nostra esistenza? Come si documenta l'efficacia del Battesimo che la stragrande maggioranza del popolo ambrosiano ha avuto in dono, anche se moltissimi poi sembrano dimentichi della strada di casa, soprattutto dell'eucaristia dominicale. Ebbene, ce lo indica lo stesso Battista. Portava un vestito di peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. In sostanza, dal Battista ci viene un forte richiamo alla conversione che si radica nel riferimento a Gesù in vista di uno stile di vita cristiano, uno stile di vita essenziale, sobrio. Benedetto XVI, in una omelia ebbe a dire che la sobrietà cristiana è via privilegiata che conduce alla solidarietà, alla condivisione vera e concreta di tutto ciò che è necessario per vivere secondo la dignità umana, che è di tutti, senza alcuna discriminazione. Cristo ci precede, nel Battesimo per la potenza dello Spirito ci possiamo ogni giorno convertire perché questo stile di vita sobrio e solidale, capace di libertà personale e di offerta di libertà a tutti si documenti sempre di più dentro le nostre comunità parrocchiali, le comunità pastorali, le aggregazioni di fedeli di varia natura, così che tendenzialmente per quello di cui siamo capaci nella nostra debolezza, le tante forme di discriminazione che tocchiamo ogni giorno con mano anche nella nostra amata Milano possano essere se non completamente vinte, almeno ridotte, contenute perché la dignità di ogni donna e di ogni uomo si affermi. Allora, carissimi, carissime, vivendo con consapevolezza il Battesimo, il cristiano realizza la sua vera natura di figlio nel figlio. noi siamo figli del regno, è il tema di questa seconda domenica dell'Avvento Ambrosiano. Siamo figli del regno che alla fine è Gesù stesso e come tali dobbiamo comportarci come persone libere, coinvolte in una trama di relazioni buone a partire da quella essenziale della famiglia, vivendo quotidianamente in spirito di sobrietà evangelica, gli affetti, il lavoro, il riposo, affrontando il male fisico e morale, prendendoci cura della nascita, dell'educazione, della morte, promuovendo la giustizia e la pace, facendo ciò che tutti gli uomini sono chiamati a fare, ma facendolo segnati dal battesimo di Cristo, i cristiani danno corpo alla Chiesa e contribuiscono in autentica solidarietà all'edificazione di una società civile dal volto umano. Abbiamo inteso dire che Giovanni Battista predicava e battezzava nel deserto della Giudea e a un certo punto il Vangelo di oggi ci propone una scena diciamolo chiaramente sconcertante, quando persino i farisei e i sadducei lasciano Gerusalemme e tornano sulle rive del Giordano attraverso il deserto per ritornare in qualche modo all'origine tutti noi ci aspetteressi con la nostra tentazione del politicamente e del religiosamente corretto che il Battista gioisse contento di vederli tornare e invece si scaglia contro di loro perché? Perché poggiavano la loro appartenenza al popolo eletto su una meccanica e falsa sicurezza di avere Abramo come padre come se bastasse un'appartenenza debole alla Chiesa alla comunità cristiana come se bastasse ripetere certi gesti senza coinvolgere il quotidiano della propria vita il cuore profondo della nostra persona i nostri sentimenti costitutivi il nostro modo di ragionare di valorizzare e soprattutto il nostro modo d'agire il Battista fa capire a noi e il Santo Evangelo di oggi ce lo ridice che ci è richiesta una conversione continua ciò che nel deserto cui talora si riduce il nostro cuore si può solo domandare con energica volontà perché la volontà è la forma più semplice di domanda avviene quando il Signore viene ecco il grande annuncio dell'avvento avviene nella nostra miseria umana per farne luogo della sua dimora di santità cioè di riuscita di compimento realizza veramente la sua venuta l'oracolo del profeta io io sono il vostro consolatore che significa io sono colui che vi mette insieme perché ciascuno diventi uomo realizzato compiuto la cappella canterà la comunione da nobis pacem domine tu nostra spes et salus dacci tu la pace che viene dall'essere figli del regno tesi alla sua venuta disponibile alle circostanze e ai rapporti che ci chiedono conversione dacci la pace Signore tu nostra speranza e salvezza allora si apre per tutti noi per tutti i battezzati si apre la speranza affidabile che noi intendiamo alimentare con continuità in queste settimane che ci affrettano al Santo Natale e in questa seconda settimana di avvento vigiliamo sul nostro stile di vita pratichiamo una sobrietà fatta non solo di privazione pur importante ma soprattutto intessuta dal dono di sé e dalla condivisione con i fratelli siamo realmente figli del regno carissime carissimi questo dono non può essere tenuto nascosto come voi mostrate venendo qui questa sera e come tutti i nostri fedeli che oggi hanno partecipato alla Santa Eucaristia nella nostra grande diocesi e in tutta la Chiesa ci documentano siamo invitati come Giovanni il Battista a indicare in tutti gli ambienti dell'umana esistenza in tutti gli ambienti dell'umana esistenza a indicare colui che ci precede colui che è venuto tra noi colui che attendiamo con sua madre Maria nella definitiva venuta della sua gloria Amen l'umana esistenza a la che è l'umana esistenza a l'umana esistenza Grazie.